Una curva dei contagi in aumento in Campania, quella palesata ieri alla vigilia del passaggio in zona gialla con i dati diffusi dal bollettino ufficiale dell'Unità di Crisi. Il rapporto tra positivi registrati 1854 e tamponi molecolari effettuati 17408 è stato del 10,6% rispetto al 9,3% del giorno precedente. 21 i morti per un totale complessivo di 6.210. Calano i ricoverati in terapia intensiva, 137 rispetto ai 140 di sabato, mentre aumentano i ricoveri di degenza ordinaria da 1.499 a 1.511. Nell'agronocerino anche ieri, secondo i dati dell'Unità di Crisi, è annocera inferiore che sono emersi più tamponi positivi, 20 sui 212 processati. A Nocera a Superiore vagliati quasi gli stessi test, 211, ma quelli risultati positivi sono 10. 15 a Scafati su 204, 12 a San Valentino Torio su 74 processati, 11 a Sarno su 118, 8 a Pagani su 115 test, 6 a Dangri su 100 test vagliati, 2 a Sant'Egidio e San Marzano sul Sarno, dove sono stati processati rispettivamente 37 e 46 tamponi. Comune è quello di San Marzano sul Sarno che ieri si è ritrovato ad aggiungere alla lista dei decessi per Covid un altro nome. Un uomo ricoverato in ospedale non ce l'ha fatta. A Cava dei Tirreni 13 positivi su 225 tamponi vagliati. Qui ieri si è svolto l'AstraZeneca Day, 550 i cavesi che hanno colto l'occasione per vaccinarsi. In costiera amalfitana si registra un solo tampone con esito positivo ancora a Vietri sul mare.